come comincio questo video buongiorno ragazzi come state spero tutto bene io sono dark power e siamo tornati in un nuovo video dunque in questo video volevo dirvi che cambio casa di nuovo dopo tre anni che mi sono stabilito qua a montaggio me ne vado definitivamente già a genova e volevo salutare tutti i ragazzi di montaggio quelli che mi seguono qua su youtube e comunque mi conoscono e niente volevo dirvi appunto che me ne vado me ne vado per sempre da montaggio sono stati vent'anni perché alla fine sono stato qua vent'anni della mia vita e insomma che dirvi vent'anni sono tanti vent'anni sono veramente tanti e abbiamo passato momenti belli momenti brutti litigate vabbè ma in una compagnia è anche normale e niente ragazzi io volevo dirvi che appunto questa novità qua sono già nel bel mezzo del trasloco infatti se vedete ai mie spalle è tutto vuoto e spero comunque che chi vuole rimanga in contatto con me su instagram come volete dopo tre anni lascio questa casa mi fa veramente strano anche perché è una bella casa devo dire la verità è una bella casa e questo video sto facendo di di jet proprio ho detto vabbè dai registro dico ai ragazzi che cambio casa così lo sanno ma tanto lo sapete già avevo messo un post su instagram a inizio mese inizio anno e dove appunto vi dicevo che io me ne andavo da qua spero che continuate a comunque a seguirmi qua su youtube sicuramente e che le cose qua a montaggio vanno bene nel senso ormai sta diventando un po' un paese un po' abbandonata a se stesso e negozi chiusi covid cazzi e mazzi ne hanno comunque fatto un po' di strage economica qua e niente io poi farò ovviamente il video quando sarò giù nella casa nuova stiamo già siamo già quasi a tiro ormai e fine mese inizio febbraio sono giù e farò le live sui youtube anzi no le live si sposteranno su twitch perché è meglio e quindi vi lascerò anche il link del mio canale twitch qua sotto in descrizione o nel primo commento e a proposito di commenti chiedo ai ragazzi qua di montaggio di dirmi di scrivermi nei commenti quale sarà quale è stato il momento più bello che abbiamo passato insieme il momento più brutto e io poi farò il video con i vostri commenti e quindi niente ragazzi io vi dico ciao per adesso e ovviamente video su youtube ci saranno e però vi dico ciao nel senso fisico di chi mi conosce vi dico ciao e ci sentiamo presto su instagram chi vuole e quindi niente ragazzi io chiudo qua il video per adesso spero che vi sia piaciuto come al solito lasciate un like e un commento mi farà il piacere e noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo live ciao ragazzi